Sono 142.967 nuovi soggetti positivi al Covid-19 in Italia, questo l'aggiornamento al 12 luglio che arriva attraverso il bollettino quotidiano consultabile dal sito del Ministero della Salute. L'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente per la sola Sicilia è pari a 9.747 casi. In provincia, invece, i dati dell'Aspenissena, sempre del 12 luglio relativi alle 24 ore precedenti, parlano di 529 pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. Per l'esattezza 152 di Caltanissetta, 146 di Gela, 64 di San Cataldo, 28 di Niscemi, 24 di Mazzarino, 22 di Sommatino, 16 di Santa Caterina Villarmosa, 14 di Serra di Falco, 13 di Delia, 11 di Mussomeli, 10 di Campofranco. 6 di Riesi, 5 di Butera, 4 di Milena, 3 di Resuttano, 3 di Bonpensiere, 3 di Marianopoli, 3 di Vallelunga Pratameno, 1 di Acquaviva Platani e 1 di Montedoro. 2 i pazienti ricoverati in degenza ordinaria, 1 di Caltanissetta e 1 di Gela, 3 invece i pazienti dimessi dalla degenza ordinaria, 1 di Mazzarino, 1 di Niscemi e 1 da fuori provincia. Si registra un decesso di un paziente di Niscemi. Guariti 108 pazienti di Caltanissetta, 106 di Gela, 42 di Niscemi, 22 di Mussomeli, 17 di San Cataldo, 15 di Mazzarino, 15 di Sommatino, 12 di Delia, 11 di Riesi, 9 di Santa Caterina Villarmosa, 7 di Butera, 5 di Milena, 4 di Vallelunga Pratameno, 2 di Sutera, 2 di Montedoro, 1 di Campofranco, 1 di Marianopoli e 1 di Villalba. Intanto comincia anche in Sicilia la somministrazione della quarta dose, secondo busto o secondo richiamo, per le persone over 60 e le categorie fragili dai 12 anni in su, somministrazione che può avvenire non prima di 120 giorni dalla dose di vaccino precedente o dalla guarigione dall'ultima infezione successiva al richiamo. È possibile effettuare la prenotazione attraverso gli appositi portali o telefonicamente tramite numero verde.